La mia prima sede di servizio è stata a Savona, quindi nel 1995. Dopodiché ho fatto diverse esperienze nei diversi uffici di lavorazione sia della questura che dei commissariati. Come esperienza dei commissariati, i miei commissariati sono stati in ordine Canosa e Bidonto, che chiaramente hanno problematiche diverse rispetto a quelle di Sanremo, le esperienze nella questura sono stati dirigenti capo di gabinetto, dirigenti volanti, dirigenti digos, squadra mobile, divisione antichimine e immigrazione. Questi sono gli uffici che ho passato nelle varie serie di Savona, Rimini, Catania, Pistoia, Pisa, Canosa, Bidonto, Bergamo come divisione amministrativa. Ha viaggiato un po', ho fatto un buon tour nazionale. Dottor Savona è stato il primo... Sì, ero al gabinetto, figlio di gabinetto. Prima assegnazione. Quanti anni hai e il titolo era originario? Sono originario di 10, ho 56 anni, 61. Sì, ero al gabinetto. Sì, ero al gabinetto. Sì, ero al gabinetto.